E' iniziata in scioltezza la fase 2 in Francia, che ha visto mezzo paese tornare a lavoro. Sui mezzi di trasporto pubblico la riapertura è andata bene, anche se pochi rispetto alla norma, i passeggeri. Così come in strada, ridotto il traffico intorno alle grandi città. Meno male, dice lui, il confinamento cominciava a durare un po' troppo. Non so quale sia esattamente la situazione sanitaria, è un po' questo mi preoccupa. Sono felicissima, finalmente sono libera, possiamo uscire anche se con la mascherina. È una bella giornata. La scelta di riaprire si imponeva anche in Francia, paese diviso a metà dal Covid. E da Lione, capoluogo del Dipartimento Ron Alpi Alvernia, il parlamentare Bruno Bonel spiega che la scelta non è stata semplice. E' una scelta d'equilibrio, dovevamo decidere. Non potevamo tenere bloccato il paese oltre. Abbiamo dovuto riavviare l'intera economia e sappiamo di correre un rischio. Le persone devono essere responsabili della propria salute e della salute delle altre persone, quindi è una scelta fatta sulla fiducia, piuttosto difficile. Dobbiamo ricominciare ed è per questo che i giornali lo definiscono una nuova era in cui le persone devono imparare a convivere in modo diverso. Con le misure di blocco che si stanno gradualmente allentando qui in Francia, le persone si stanno abituando a ciò che il governo chiama la nuova normalità. La maggior parte delle persone con cui ho parlato afferma di essere sollevata dal poter uscire senza dover compilare le dichiarazioni, sentendosi finalmente libera.